Musica Mezzi schierati sul piazzale del comando provinciale dei vigili del fuoco e sirene che suonano in suo onore. Così i pompieri e retini hanno salutato il loro comandante Nicola Ciannelli che dopo 13 mesi lascia Rezzo. Al suo posto arriverà Geremia Coppola. La saluto con grande affetto, la prima cosa è da Rezzo ho avuto tanto, ho avuto tanto in termini di competenze professionali, personale, di supporto da tutte le amministrazioni pubbliche, ho avuto tanto anche dal punto di vista della relazione. Sebbene il comandante sia rimasto in città solamente per un anno ha lasciato un ottimo ricordo tra i suoi uomini che hanno così deciso di salutarlo nel modo tipico dei vigili del fuoco. Una squadra di persone in gamba, di persone che ci mettono il cuore e che ci mettono tanta professionalità come d'altronde tutti i vigili del fuoco nazionale. Ho sentito forte fin dal primo momento il dovere di essere accanto a loro, di dare tutto il supporto possibile, di valorizzare la loro dedizione, la loro esperienza.